SIGLA 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 AMO QUESTA CANZONE! Oh, porca merda! Oh, a voi la vita fa proprio schifo, non è vero? Ascoltatemi bene, banda di depravati! Avete esattamente 5 fottuti secondi per ridarci il nostro parcheggio! Oh, merda! Verossica? Blizzo... Dovevo saperlo, cari tu, sentivo puzza di pesce a miglia di distanza, il che è strano perché l'oceano più vicino è tipo... tre gironi più in basso! E io immaginavo che tu fossi qui quando ho sentito i bambini piangere. Oh sì, vedo con piacere che la riabilitazione dà i suoi frutti, sei ancora attaccata a quella bottiglia d'alcol come se fosse l'ultimo cazzo rimasto all'inferno! Mi hanno fatta uscire perché sono ancora famosa e la riabilitazione è solo per i falliti senza futuro. Oh, ti saluta tua sorella. Perché hai parcheggiato qui? Non mi pare che ci sia scritto il tuo nome sopra, quindi vedi di prendere questa tua macchina da corsa e di andartene! In verità, coglione, c'è il mio nome sopra. Sto facendo dei lavoretti per una delle compagnie infinitamente più famose presenti nell'edificio. Non ci credo. E mi vogliono qui per dirigere il loro team durante le vacanze di primavera. Che cosa? No, 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 no! Non parcheggerai qui per tutte le vacanze! Oh, sei arrabbiato, Blitzo? Correrai via facendo pagare qualcun altro per la camera dell'hotel? Ruberei la sua macchina per gareggiare e usare la mia carta di credito per pagare delle cazzo di lezioni di liquidazione? Maledizione, donna! Non vuoi proprio lasciar perdere! Succhiati un cazzo e strozzaci ti. Ehi, aspetta! Sarà meglio che tu rimuova quell'auto subito, altrimenti io... Tu cosa? Oh, beh, 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 ecco, io chiamerò le risorse umane! Comunque, lui è il mio nuovo cerbero, Vortex. A differenza tua, lui sa fare bene il suo lavoro. Ciao, ciao, perdente! Ah, ho perso così tanto tempo con quella succube! Tu conosci Verossica Mayday? Eh? Oh, sì, uscivamo assieme. È stato prima o dopo che diventassi una pop star? Lei è uscito con una pop star! Ok, perché siete tutti scioccati all'idea? Pronto? È Verossica Mayday. E tu? Per caso... è cieca? O ha forse qualche danno al cervello? Senti, te la state facendo tutti molto più grande di quanto non sia e poi io non mi mischio nelle vostre vite private! Il reale è più facile! Veramente, lei lo fa sempre! Capo! Chissà com'è il sesso con lei! Millie! Cosa? È una pop star! Tu vuoi sapere come fare sesso con Michael Cropford? Touché! Ok, senti, finiamola qui! Millie va a parcheggiare la Imp Mobile da un'altra parte! Moxie, Luna, finiamola con sta storia! Se mi vedesse... Cazzo! Sono truccata di merda oggi! Oh, sei perfetta, Looney! Come sempre! Sta zitto, pa! Blitz! Oh! 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 Hm? Ok, pezzo grosso, dove sta la stronza? È nel suo ufficio! Non c'era una stanza libera al secondo piano, quindi ne hanno presa una su questa! Se vuoi te la... No, ma andiamo! Che vuoi farci? Oh no, non va affatto bene! Capo, o che le dice di mandare dentro me a provare a ragionare con lei? Io non ascolto quella definita come musica pop! Per questo il suo status non ha alcun effetto su di me! Privilegi! Moxie, chiudi il becco! Ok, d'accordo! Salve, signorina Verosica! Io lavoro per gli Imp e per noi è quanto importante mantenere quel singolo posto auto che ci è stato assegnato! Perciò... No, guardate che carino! Ha un piccolo Bobby On! Per favore, non faccia l'altezzosa con me! Vuoi un bacio, piccoletto? Ehm... Generosa come offerta, ma sono sposato! Ehi! Perché non mandi un messaggio al tuo capo cazzone per me? No, no! Non lì! Moxie! Non farli avere accesso ai tuoi buchi speciali! Andrò a distendermi adesso! No, adesso però basta! Ascolta Troia, se vuoi fare la stronza anche con i miei dipendenti allora io ti sfido a una fottotissima... sfida! Perché l'ho detto due volte? Questo piccolo Imp sta iniziando una sfida tra demoni? Penso di sì! Qual è il gioco allora, Blitzo? Ogni anno voi puttane andate in superficie in cerca di prede facili mentre le vacanze di primavera sono un tripudio di omicidi senza pari! Quindi scommetto che voi troie non riuscite a scopare un numero di persone superiore a quelle che noi uccidiamo in 24 ore! Oh, sei serio? Accetto, Blitz! Ok, ascoltate tutti perché lo ripeterò solo sei volte! Primo, troviamo un fottio di clienti! Apriamo un portale! Dopodiché uccidiamo tutti quanti come nostro solito e poi mettiamo i cadaveri su una canoa! Poi spingiamo quella canoa nell'oceano per poi darle fuoco! Così da tirare gli squali, i serpenti e le galline e anche un mostro marino! Noi vinciamo la scommessa e lo sbattiamo in faccia a quella povera troia senza speranza! Qualcuno di voi ha qualche domanda? Ehm, sì! Che diavolo era quello? La tua non è una domanda! Quello non era un piano! Quella lì, Moxie, era una perfetta rappresentazione visiva di quello che dovremmo fare! Mi spiace che oggi il tuo povero cervellino non ci arrivi! Che ha detto? Ti ho dato del tardo, Mox! Dio, perché non puoi apprezzare le critiche, brutto lurido troll senza talento?! E perché tu non prendi lezioni d'arte?! Perché non ti informi su quanto costano?! Ehi, e se questa volta venissi con voi? Assolutamente no! Te lo proibisco, non succederà! Sono spiacente, Luna, ma non puoi venire con noi! Tu non hai idea dei pervertiti là sopra che vorrebbero scoparti! Beh, posso confondermi tra gli umani facilmente! Lasciate che venga con voi! Aspetta, puoi ripetere? Posso confondermi? Hai un travestimento umano?! Sì, voi no! Voi tre avete girato sulla terra tutto il fottuto tempo senza un travestimento umano?! Ok, nuovo piano! Luna può aiutarci ad attirare gli umani e noi penseremo al resto! Aha, allora che ve ne pare? Logica impeccabile! Credo che lei si stia dimenticando una cosa, signore! Per vincere la scommessa ci servono effettivi clienti che commissionino gli omicidi! Non possiamo andare lì e fare una strage! Ci avevo già pensato, Mox! Ora aspettiamo! Signore, non c'è alcuna possibilità che noi avremo abbastanza clienti a fine giornata per merito di un unico volantino scritto male! Bene, sono tu che tocca!